Una storia d'amore nella terra di Balbo, Matteotti e Don Minzoni, ambientata nel Ferrarese dopo la fine del primo conflitto mondiale. Parliamo di Acqua e Terra, il nuovo romanzo di Dario Franceschini, protagonista del libro Due donne. Sono le donne per tutta la narrazione, sono donne coraggiose, donne che hanno una visione, mentre gli uomini sono piuttosto mediocri o negativi. Si svolge negli anni dopo la primavera mondiale, tra la violenza delle grosse elezioni fascista e la storia d'amore tra le due ragazze in questo clima di violenza. La presentazione è avvenuta a Cagliari in occasione della terza edizione del Rainbow Festival, giunto alla terza edizione. Parlare di queste tematiche, parlare delle tematiche LGBT è ancora di più importante. Lo facciamo attraverso le pagine dei libri, lo facciamo con tantissimi autori e autrici che sono venute da luglio sino ad oggi, cioè sino a domenica, per parlare dei loro libri, per raccontare delle storie. Per Dario Franceschini, ex ministro della cultura e socio fondatore del Partito Democratico, non si tratta del primo romanzo. Perché dal politico ci si aspetta concretezza, realismo, dallo scrittore ci si aspetta trasgressione, immaginazione, quindi non stando bene insieme. Però non ho due vite, ne ho una sola e quindi ho deciso di fare tutte e due le cose in questa. Il suo romanzo è ambientato a Ferrara, la sua città natale. La Sardegna possiamo considerarla una sua seconda casa? Certo, io ho una moglie che ha la mamma sarda, mia nonna materna era di Sassari, ho una bellissima casa campitanese vicino a Cagliari e quindi mi sento un bel pezzo della mia vita sardo. Un commento anche sulla nostra isola, sullo stato attuale della nostra isola, anche sotto il punto di vista anche culturale. È un'isola straordinaria, piena di bellezza, di storia, di tradizioni. Va molto bene il turismo del mare, dovrebbe allungarsi la stagione e conoscere anche i paesi dell'interno. Il futuro sarà dei borghi in tutta Italia perché la gente cerca turismo esperienziale, autentico, non soltanto viaggiare e vedere ma immergersi in una realtà. E quindi la Sardegna e l'introterra può offrire luoghi meravigliosi, archeologia, storia, tradizioni, bellezza.